non tutti gli stronzi sono uguali ma tutti gli stronzi vengono per nuocere lo stronzo tipo è il narcisista che ormai dilaga no è l'epidemia ormai in questo secolo ed è quello che si sa è principalmente innamorato di se stesso per cui è molto attento e lui insomma è un piacione è quello che sa stare al mondo che piace moltissimo alle donne che si veste bene che è magnetico un grandissimo manipolatore ha sempre la frase giusta al momento giusto quindi è quello che ci fa cascare come pene ogni volta ma non c'è solo il narcisista che si riconosce si sgama abbastanza facilmente ci sono anche altre tipologie per esempio uno dei miei preferiti è il buongiorno principessa è quello che manda il messaggio su whatsapp buongiorno principessa random almeno 5-10 donne qualcuno casca sempre perché è la legge dei grandi numeri poi c'è il buon samaritano quello che è nato per fare del bene quindi perché non può fermarsi a una donna soltanto anche lì almeno 5 o 6 c'è quello che dove sei stata tutto questo tempo che il giorno dopo che ti ha conosciuto ti ha già regalato un anello poi tempo una settimana si dà la macchia e poi c'è il meglio un rimorso che un rimpianto quello che appunto dopo 25 anni di matrimonio 30 anni di matrimonio molla moglie e figli e sparisce su un'isola si fa i selfie da un'isola di santorini per esempio la lista è lunga ma direi che questi sono quelli su cui concentrarci principalmente penso che siano anche nella vostra statistica